Diversi anni fa a Los Angeles fu scelto per girare una miniserie per una tv locale. Si trattava di una piccola produzione, il budget era molto limitato e quindi c'era necessità di girare tanto in poco tempo. A metà del primo giorno di riprese, nonostante avessimo pianificato di montare dei butterfly sui quali riflettere degli illuminatori a scarica, la produzione disse al regista che non c'era tempo per farlo. Eravamo leggermente in ritardo sul piano di lavorazione, dovevamo ancora girare due scene, delle quali una in un'altra location, e quindi serpeggiava un po' il timore che non saremmo riusciti a fare tutto. La cosa mi fu comunicata da un aiuto regia, ovviamente la mia prima reazione fu quella di andare dal regista e dal delegato di produzione per convincerli a cambiare idea. Il gaffer di quella serie, che avevo conosciuto pochi giorni prima, vedendomi sul piede di guerra, mi fermò mettendomi una mano sulla spalla e dicendomi molto semplicemente «Pick your battles», ossia «Scegli le tue battaglie». Era il primo giorno di ripresa, ce ne sarebbero stati ancora tanti e mi sarei ritrovato in quella situazione altre cento volte. Chiaramente non potevo porre resistenza ogni volta, sarei durato pochissimo su quel set. Quindi, se avevo la possibilità di spuntarla in due o tre occasioni all'interno di un'intera serie, quelle occasioni dovevo sceglierle con cura. In quel caso si trattava di una piccola scena, erano pochi secondi, erano sostanzialmente non raccordo, quindi se anche la luce non fosse stata perfetta non sarebbe stato un gran danno né per l'episodio né tantomeno per la serie. «Lasciai perdere» fu la scelta migliore. Anche perché, se dici sì cento volte, nel momento in cui dici no alla gente che hai attorno è molto probabile che sia portata ad ascoltarti. Durante quella serie il buon Steve mi dispensò anche un'altra perla di saggezza. Se un direttore della fotografia deve tenere al film che sta girando esattamente quanto regista. Se ci tiene meno è inaffidabile, se ci tiene di più è un intralcio.